Partenza con una delle tante compagnie che effettuano collegamenti diretti con Tenerife. Nel nostro caso, un volo Ryanair operato da Ermalta. La rotta prevede il sorvolo delle disabitate montagne dell'Andalusia e delle suggestive e affascinanti fornazioni nuvolose, quasi sempre presenti sull'Oceano Atlantico, a largo della costa marocchina. Dopo circa quattro ore di viaggio si avvista la vicina isola della Gomera e inizia a delinearsi la costa di Tenerife, sovrastata dal profilo del Monte Teide, che con i suoi 3.715 metri domina l'intera isola. L'ora del tramonto rende il tutto più suggestivo. L'atterraggio avviene nel modernissimo e trafficato aeroporto Reina Sofia, che si trova nella parte sud dell'isola, più precisamente vicino a El Medano e Los Abrigos. Quello di Tenerife Sud è per numero di passeggeri il secondo scalo delle isole Canarie, dopo quello di Gran Canaria, ma è il primo dell'isola di Tenerife. Lo scalo è servito da una cinquantina di compagnie aeree e nel corso del 2023 ha fatto registrare più di 12 milioni di turisti in transito, doppiando, in quanto a numero di passeggeri, l'altro aeroporto di Tenerife, quello di Tenerife Nord Ciudad della Laguna, utilizzato soprattutto per i collegamenti interni alle isole Canarie. Per avere un'idea, il traffico aereo complessivo di Tenerife supera quello degli aeroporti di Milano-Linate e Bologna messi assieme. Tenerife, isola spagnola situata a largo della costa atlantica del Sahara, è diventata, grazie al suo clima subtropicale, una delle mete più ambite del turismo internazionale. Sono davvero tanti i vettori che, con partenza dall'Italia, offrono voli per questa destinazione, ma vediamo ora di scoprire insieme le bellezze di quest'isola. La scoperta dell'isola non può che iniziare dall'antica capitale di San Cristobal della Laguna, comodamente raggiungibile in auto dall'aeroporto, utilizzando l'efficiente rete autostradale gratuita, che nella parte settentrionale presenta anche moderni tratti a quattro corsie di marcia. Da notare che si tratta di arterie molto trafficate, soprattutto nelle ore di punta. Naturalmente la città è raggiungibile anche con i tanti ed efficienti autobus e dalla vicina Santa Cruz con una moderna linea tramviaria. San Cristobal della Laguna San Cristobal della Laguna è un centro che oggi conta 150.000 abitanti. Situata a 500 metri sul livello del mare, si presenta talvolta coperta da nubi e in certe stagioni non è difficile imbattersi in pioggia e in nebbie persistenti, a dimostrazione dei tanti volti che può assumere quest'isola. Nel giro di pochi chilometri si può passare dal sole coccente alla fitta nebbia. A volte il cielo può essere nuovonoso, ma le temperature restano comunque gradevoli. L'antica capitale conserva ancora intatto il ricordo e il fascino della dominazione spagnola delle Canarie, iniziata nella seconda metà del 1400, quando la potenza militare del nascente Stato spagnolo riuscì piano piano a sovrastare la popolazione indigena dei Guanci. Una curiosità, le isole furono chiamate Canarie, dal latino Canis, per la presenza di un gran numero di cani selvatici che popolavano l'arcipelago. In qualche caso è ancora possibile avvistarne qualcuno, che si tratti di discendenti di qualche razza antica che abitava l'isola? A San Cristobal della Laguna tutto parla dell'antico splendore coloniale, a partire dal convento di Santo Agustin per arrivare alla casa Franco de Castiglia del XVIII secolo. Notevole anche Plazza Cattedrale e tutte le altre costruzioni che si incontrano andando a passeggio per il centro storico, dichiarato dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Non per nulla, la laguna, così oggi viene semplicemente chiamata la città, è sede di università e capitale culturale di tutte le isole Canarie. A San Cristobal della Laguna Dalla capitale storica passiamo al capoluogo attuale dell'isola, Santa Cruz de Tenerife, che sorge sul mare a soli 10 chilometri dalla laguna. Santa Cruz conta più di 200.000 residenti, ma come strutture e caratteristiche presenta l'aspetto di una città ben più grande rispetto al numero di abitanti censiti. Tra il 1833 e il 1927 è stata l'unica capitale di tutte le Canarie. Dal 1927 ad oggi condivide questo ruolo con la Spalmas, centro principale dell'isola di Gran Canaria. Santa Cruz oggi è un centro molto moderno e trafficato, con grandi arterie, una tranvia da fare invidia alle nostre metropoli italiane e un'imponente organizzata stazione delle autocorriere, qui chiamate Guaguas. Ma l'economia della città si basa oggi soprattutto sulla presenza del porto. A parte lo scalo merci, ogni anno sono più di 7 milioni i passeggeri che sbarcano dalle mastodontiche ed inquinanti navi che attraccano nel suo porto, cariche di turisti che poi, in giornata, visitano l'isola. La città di Santa Cruz dei Tenerife pure sede di un grandioso e affollato carnevale che si tiene ogni anno nel mese di febbraio. No te voy a dejar, te voy a amar, vamos a bailar, regalito, solecito. No te voy a dejar, te voy a amar, vamos a bailar, regalito, solecito. A mi me gusta tu cuerpo, a mi me gusta cuando mueves tu cuerpo, de la forma que tu mueves tu cuerpo, dale lento, regalito, sole musica. A mi me gusta el flow, de la cucaracha, cuando le echa flip, hace así y se emborracha. Se emborracha, se emborracha, se emborracha, la cucaracha, se emborracha, y se emborracha, la cucaracha. A mi me gusta el flow, de la cucaracha, A me mi piace il flow di la cucaracha Quando le echa fri, hace così e se emborracha Se emborracha, se emborracha, se emborracha La cucaracha, mami, se emborracha, se emborracha La cucaracha, písala, písala, písala La cucaracha, písala, písala, písala Sul litorale di Santa Cruz merita una visita anche la spiaggia di Las Teresitas Che si trova a 7 km a nord dal centro della città Frequentata non solo dai turisti ma soprattutto dalla popolazione locale Si tratta di un litorale davvero particolare, molto bello e suggestivo Non soltanto per la presenza di numerose palme Ma anche in quanto sulla spiaggia nera di origine vulcanica È stata trasportata sabbia bianca proveniente dal vicino deserto del Sahara Grazie a tutti A poco più di 40 km da Santa Cruz Sorge quello che, fino a qualche decennio fa Era il centro turistico principale di Tenerife La città di Puerto della Cruz Situata sulla costa settentrionale dell'isola Dove il clima è un po' più rigido E la possibilità di pioggia nel periodo invernale maggiore È nota per le sue spiagge vulcaniche scure E per l'enorme zoo che sorge a poca distanza dal suo centro In questi ultimi decenni Forse per le temperature che sono più fresche rispetto a quelle del sud dell'isola È un po' meno frequentata dai turisti In particolare da quelli italiani I quali si sono spostati nella parte sud di Tenerife Qui si percepisce maggiormente la presenza dell'Oceano Atlantico Con le sue spumeggianti onde Che permettono agli appassionati di surf Di praticare questo sport nel tratto di mare antistante la città Sullo splendido lungomare Frequentato da migliaia di turisti Sorge il lago Martianez Un complesso di piscine di acqua salata davvero stupendo Progettato dall'architetto Cesar Manrique Il complesso del vecchio porto, recentemente restaurato Ospita un forte militare del 1700 Molto interessanti anche le costruzioni che si richiamano al passato coloniale Nella parte nuova, in questi ultimi decenni Sono stati costruiti decine di alberghi e residence E qui si inizia a comprendere il rovescio della medaglia del bunturistico Anonimi ed alienanti alveari Che arrivano anche fino a 17 piani Sorgono sulle colline antistanti il porto Sacrificando spazi naturali intatti da secoli Un fenomeno che purtroppo riscontreremo anche in altre parti dell'isola Ma è giunto il momento di trasferirci al sud Cioè in quella parte di Tenerife Che negli ultimi 30 anni ha visto un maggior aumento del flusso turistico Grazie al suo clima più caldo e secco rispetto a quello del versante nord Proprio per queste caratteristiche e per la presenza del vento È in questa parte dell'isola che è sorto, al lato dell'autostrada, nella zona di Gran Viglia Un grande parco eolico costituito da 81 pale In grado di soddisfare parte del fabbisogno di energia elettrica di Tenerife Ma è già stata avviata la realizzazione di un nuovo parco eolico Chiamato Finca di San Juan Gestito dalla società spagnola Iberdrola In questa zona di Tenerife, accanto alle pale eoliche Ci si può anche imbattere in alcuni luoghi Che ci ricordano come poteva essere il paesaggio fino a qualche anno fa Primo fra tutti la Candelaria Uno dei centri più antichi dove si possono ritrovare le origini guance dell'isola Il turismo ovviamente è arrivato anche in questo luogo Ma in misura più discreta È bello percorrere le sue strade piene di negozi e di artigianato locale E ammirare le celibli statue di Plaza della Patrona Che rappresentano i nove reguanci che governarono Tenerife Prima della dominazione spagnola Tappo obbligata la visita all'interno della suggestiva cattedrale di Nueva Mestra Signora della Candelaria Detta la Morenita, patrona dell'isola Mestra signora I close my eyes My eyes My eyes